L'intento di questo video è di dimostrarvi come sia possibile con l'ausilio di un iPad e delle applicazioni per mobile di Adobe Creative Cloud realizzare un vero e proprio progetto grafico dalla A alla Z. Nello specifico quello che intendo realizzare insieme a voi è un file pubblicitario legato a un nuovo prodotto di una marca di birra, quindi una vera e propria nuova birra. Partiamo dal suo concept e abbozziamo quello che dovrebbe essere il layout di massima. Per questo motivo mi avvalgo di Adobe Sketch. Adobe Sketch è l'applicazione perfetta in questo frangente che mi permette di utilizzare strumenti pittorici come per esempio in questo caso una matita che mi permette proprio di disegnare su un foglio di carta quello che deve essere un po' il mio layout di massima. Siamo abituati effettivamente a concepire magari proprio le nostre idee creative partendo da un foglio di carta e utilizzando una semplice matita. In questo frangente qualcuno di voi forse la starà notando, sto usando in realtà un iPad Pro con la Apple Pencil che è quindi questa matita che lavora perfettamente sia con iPad Pro ma anche con in questo caso Adobe Sketch. Infatti grazie proprio a questo strumento mi posso permettere il lusso di disegnare con una interattività e una precisione veramente non paragonabili rispetto al passato. Ecco facciamo una cosa così in linea di massima più o meno fatta in questa maniera. Sono ovviamente molto approssimato. Questa è la nostra bottiglietta di birra. Volevo dare l'idea che questa birra svetta soprattutto le altre, si diversifica da qualsiasi altra. Allora rappresenterò nella parte bassa del mio layout tante piccole bottigliette di birra anonime diciamo che rappresentano un po' tutte le altre birre esistenti sul mercato che guardano questa nuova arrivata dal basso verso l'alto anche un po' intimorite. Questo è un po' il concetto che volevo esprimere. Qui diciamo nella parte superiore andrò senz'altro a mettere un payoff o comunque uno slogan. Qua metterò il logo della mia birra che dovrò tra l'altro disegnare e concepire ex novo anch'esso. È una cosa che non ho ma che comunque realizzerò insieme a voi. Nella parte qui di destra metterò una didascalia descrittiva maggiormente del mio prodotto e qua metterò ancora un ulteriore logo un po' più elaborato del prodotto. Benissimo questo è il concetto che io voglio realizzare in termini di layout. Abbozzato in maniera molto estemporanea grazie ad adobe sketch. Bene cominciamo allora adesso a produrre tutti i contenuti che mi servono per realizzare questo layout e questo progetto. E in prima istanza mi avvalgo dell'utilizzo di adobe stock. Adobe stock mi mette a disposizione più di 45 milioni di immagini fotografiche, vettoriali e illustrazioni da utilizzare nei miei progetti. Vado a ricercare quindi delle immagini che riproducono il soggetto birra. Quindi semplicemente nel mio campo di ricerca vado a imputare questa chiave, questo elemento e vedete che trovo una quantità enorme di immagini che possono essere per me motivo di ispirazione. In questo frangente ho già acquistato quattro di queste immagini che sono per me interessanti e che mi hanno ispirato per realizzare il mio progetto che io adesso vado ad arricchire proprio con tutti i suoi contenuti. Partendo da che cosa? Da Adobe Capture. Adobe Capture è un'applicazione che in realtà include in se stessa quattro applicazioni diverse che ci permettono di catturare quello che ci circonda e di trasformare immediatamente in un asset da utilizzare all'interno dei miei progetti. Prima ancora prova di fare questo vedrete nella parte superiore c'è riportato la voce Adobe Meetup 2015. Cos'è questa nello specifico? È una libreria che in questo momento io sto utilizzando. Io adesso creerò una nuova libreria insieme a voi che chiamerò per esempio birra creativa. Ok e questo significa che all'interno di questa libreria io andrò a depositare tutti i contenuti che vado a realizzare per lo sviluppo di questo progetto. Sapete che le librerie di Creative Cloud una volta che io le creo su un dispositivo si propagano istantaneamente su tutti gli applicativi all'interno del mio dispositivo ma anche per esempio di tutti i miei applicativi desktop che ho installato sul mio pc. Quindi sono già sincronizzati e onnipresenti ovunque. Bene alla voce Color la prima cosa che faccio è quella di caricare una delle immagini che ho acquistato su Adobe stock e in particolare questa coppia di bottiglie che avevano queste belle tonalità che mi piacevano molto. Bene questi colori a me interessano e con la sezione Color di Capture posso andare proprio a catturarli. Io adesso sposto i punti di campionamento in questo caso sulla bottiglia di colore rosso ambrato perché mi interessa creare come vedete una palette cromatica che riproduca proprio queste tonalità che mi piacciono molto e che potrei utilizzare all'interno del mio progetto. Benissimo un semplice pressione sul pulsante e vedete che vado a creare quindi questa palette cromatica lasciamo pure col nome Call of Vem 1 dove all'interno della mia libreria birra creativa. Benissimo ne faccio un altro perché come avrete visto ho utilizzato le tonalità ambra ma mi interessano magari anche quelle verdi perché magari avrò bisogno e necessità proprio di utilizzare anche queste tonalità e così vado a posizionare i punti di campionamento delle varie tonalità specifiche su vari punti della mia immagine per creare anche un'ulteriore palette cromatica che mi potrebbe servire. Ok punto secondo vado adesso nella sezione shape di adobe capture perché perché voglio creare la silhouette grafica diciamo di una bottiglietta di birra desunta da una delle fotografie che ho acquistato su adobe stock per fare questo ancora una volta gli vado a dire ok dal mio rullino fotografico per favore vai a prendere questa immagine ed ecco quello che succede di questa foto di gruppo di queste birre adobe capture mi permette di identificare i contorni posso aumentare o diminuire il livello di contrasto attraverso questo cursore per identificare meglio i contorni di ogni singolo soggetto se poi tocco con la mia penna col mio dito all'interno della mia immagine adobe capture mi fa vedere un'anteprima di quello che verrà prodotto e questo per me è ancora più utile in questo caso aumento leggermente il contrasto per avere diciamo una silhouette in questo caso questa mi interessa molto. Premo il pulsante verde e adesso con l'utilizzo della mia penna della mia pencil o anche del mio dito funziona assolutamente bene in entrambi i casi vado a escludere le altre bottigliette di birra per dire a capture guarda che è questa quella che mi interessa gli dico semplicemente avanti avviene quella che è la magia e cioè questa fotografia è stata trasformata in una grafica vettoriale che io posso utilizzare all'interno di tutti i miei progetti con creative cloud benissimo gli dico avanti la vado a registrare nuovamente vedete nella mia libreria birra creativa in maniera tale che stia lì ed eccola qua c'è un altro elemento che adesso voglio fare e voglio produrre insieme a voi e cioè vi ricorderete che il mio layout prevede la realizzazione di tante piccole bottiglie di birra alla base diciamo del mio layout mi verrà comodissimo quindi in questo caso utilizzare brushes con brushes posso trasformare qualsiasi immagine e o una parte di essa in un pennello pittorico da utilizzare all'interno delle applicazioni che prevedono questo tipo di strumento in creative cloud premo ancora una volta il pulsante più e vado a prendermi dal mio rullino fotografico ancora una volta questa bella foto di gruppo di queste bottigliette di birra che ho acquistato su adobe stock in questo caso dico ok vanno benissimo e adesso vado semplicemente con la funzione di crop a delimitare quale di queste voglio che diventi un pennello ovviamente non tutte quante ma mi interessa soltanto una gli dico avanti e voilà ecco quello che incredibilmente diciamo la funzione brushes di adobe capture ha prodotto cioè ha prodotto varie tipologie di pennelli sulla base anche delle applicazioni che permettono di utilizzare pennelli in questo caso per esempio possono essere pennelli per adobe sketch che sono pennelli pittorici a colori piuttosto che non per photoshop in bianco e nero piuttosto che non per illustrator vettoriali sulla base proprio della dell'immagine che ho scelto in questo caso prevedo che l'utilizzo sia per adobe sketch perché mi interessa proprio utilizzare questa applicazione bene nell'area che vedete qui adesso io sto sperimentando con la mia penna il tipo di pennello che sto creando clicco anzi clicco tocco scusate modifica brush perché voglio fare ulteriori raffinamenti di questo pennello innanzitutto alla voce ritaglia vedete che ho a disposizione delle barre verticali che definiscono nello specifico il corpo del mio pennello la coda e la testa dove il corpo viene deformato con l'azione mia pittorica dispennellata mentre invece rimarranno inalterati ciò che stanno all'esterno del corpo quindi il la testa e la coda che sono in questo caso qua ed è effettivamente così che voglio che sia in questo caso la mia bottiglia il mio pennello voglio che il collo della bottiglia non si deformi ma si deformi soltanto il corpo questo è quello proprio che voglio se seleziono poi la voce migliora quindi posso ulteriormente con l'utilizzo di questo cursore bruciare per esempio le aree bianche in maniera tale di far sì che il mio pennello non abbia dei fondi opachi coprenti nel momento in cui andrò ad utilizzare e da ultimo alla voce predefiniti posso anche determinare quanto questo pennello sia grosso quindi in termini di dimensioni di default predefinite benissimo proprio quello che volevo gli dico fine e adesso semplicemente premendo avanti dirò di registrare nuovamente nella libreria birra creativa nel mio pennello ecco fatto diciamo che per quanto concerne adobe capture questo mi basta e mi avanza ora ho acquistato anche per intenderci lo faccio vedere all'interno del mio rullino anche questa bella immagine di questa di questa birra vediamo come posso utilizzarla allora l'immagine richiede del ritocco ci sono dei particolari che voglio rimuovere a questo scopo mi avvalgo di photoshop fix photoshop fix è un nuovo nato nella famiglia dei prodotti per mobile di adobe creative cloud e lo dice la parola stessa fix sta per ritocco quindi è un piccolo ma potente photoshop che mi permette di ritoccare fare operazioni di fotoritocco vado quindi a prendere la mia bottiglia di birra eccola qua che ho comprato su adobe stock perché qui voglio rimuovere alcuni particolari bene vedete nella parte bassa ci sono tutta una serie di strumenti non li sto a elencare tutti sono veramente tanti ma quello che mi preme è la funzione healing cioè tutti voi secondo me che usate photoshop conoscete la funzione pennello correttivo al volo bene esattamente questo adesso per esempio con una semplice spennellata posso andare a rimuovere per esempio questa goccia che non mi piaceva piuttosto che non rimuovere questa piuttosto che non rimuovere quest'altra il tutto anche proprio con l'interazione dell'utilizzo in questo caso della mia penna oppure posso usare anche in questo caso il conosciutissimo timbro quindi qua campiono e qua rimuovo per cui magari in questa maniera molto rapidamente con la mia penna vado a rimuovere un particolare che non mi interessa bene fatto quindi il mio intervento posso per esempio anche qui registrare nel mio rullino fotografico questa immagine con il tipo di intervento che ho fatto perché perché adesso devo fare un'altra operazione che però richiede l'utilizzo di un'applicazione diversa cioè photoshop mix photoshop mix è diciamo il photoshop che serve per fare fotomontaggio quindi per miscelare e comporre tra di loro più immagini in questo caso facciamo un nuovo progetto anche qui dal mio rullino fotografico vado a prendere la fotografia che ho appena fotoritoccato insieme a voi e la cosa che andrò a fare adesso sarà quella di andare a rimuovere delle parti che non mi interessano ossia guardate qua in basso abbiamo la funzione lo vedete sagoma che è quella che io vado a selezionare dicendo di sagoma e stabilendo che voglio rimuovere sottrarre delle aree vado a toccare con la mia penna col mio dito tutte le parti che voglio bucare quindi rendere su fondo trasparente in questa maniera quindi sto facendo velocissimamente come vedete in operazione di scontorno veramente molto molto veloce che mi permette quindi adesso di avere questa bottiglia di birra su fondo trasparente che è proprio quello che volevo ottenere ancora una volta vado a registrare questa cosa nel mio rullino fotografico perché poi la dovrò utilizzare successivamente fantastico andiamo avanti il prossimo step sarà quello di creare anche il logo di di questo progetto di questo prodotto e per questo mi avvalgo in questo caso di adorbi illustrator draw che mi permette di letteralmente utilizzare un po come sketch degli strumenti da sapore pittorico ma in realtà con caratteristiche vettoriali per capirci per esempio prendiamo questo pennello facciamolo pure di un semplice color nero e vedete che con illustrator draw posso permettermi di disegnare con una morbidezza e creando dei tratti veramente meravigliosi in maniera veramente velocissima e la precisione in questo caso di apple pensile mi permettono di avere quindi per le mani uno strumento incredibilmente potente naturalmente tutto poi è modificabile da parte mia nella maniera che vogliamo eccetera 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 diciamo che non è questo che volevo farvi vedere ma creiamo invece un nuovo un nuovo progetto questo lo cancelliamo e lavoriamo su un nuovo foglio perché voglio creare quindi il logo di questa birra bene mi avvalgo in questo caso di questo strumento facciamolo di dimensioni piuttosto generose e come colore guardate che cosa c'è qua ovviamente non c'è soltanto la libreria precedente ma utilizziamo proprio la libreria di colori che abbiamo creato appositamente per questo progetto la quale ospita come vedete i colori che io ho generato grazie ad adobe capture in questo caso per esempio scelgo questa tinta di colore quindi in questo caso vediamo faccio un lettering che potrebbe essere una cosa tipo questa quindi creative ok e potrebbe essere beer ok questo deve essere un po il logo che mi accingo a fare boh magari diciamo questa la c in particolare non mi piace non c'è problema possiamo cancellare a nostro piacimento come vogliamo e facciamo per esempio un altro tentativo facciamo una cosa più così ok questo mi sembra più dinamica bene diciamo che può essere carina questa cosa adesso vorrei però creare anche un effetto di ombreggiatura per far risaltare ancora meglio il mio logo adobe draw lavora livelli che io posso selezionare e in questo caso ogni singolo livello io lo posso anche duplicare in questo caso quindi ho creato un secondo livello che è la copia esatta registro del precedente adesso seleziono il livello sottostante spengo il livello sopra che non mi interessa e voglio semplicemente riempire di colore nero il logo che io appena realizzato mi basta selezionare quindi uno strumento qualsiasi scegliere la tinta nera e premere leggermente insistentemente su ogni singolo elemento che compone in questo caso è il mio il mio lettering e vedete che in questo modo si colora della tinta che ho scelto per lo strumento che sto utilizzando quindi in questo caso sceglierò quindi il nero ecco fatto questo mi servirebbe per esempio anche per campire zone chiuse per esempio potrei premere qui dentro nel vuoto della lettera b e riempirlo di un altro colore ma in questo caso non è quello che voglio riaccendiamo nuovamente anche l'altro livello che era spento e il livello sottostante adesso chiedo di muoverlo quindi è evidente che ottengo questo tipo di effetto che è quello che effettivamente desideravo lo sposto semplicemente in maniera molto moderata proprio perché voglio questo tipo di risultato molto bene ok chiudiamo e abbiamo quindi realizzato il logo della nostra birra andiamo avanti vi dicevo che forse mi servirà una edizione un po più elaborata del medesimo logo benissimo no problem at all vado a selezionare quello che ho già realizzato e chiedo di creare un duplicato diciamo del medesimo quindi adesso lavoriamo su un duplicato vi ricordate la bottiglia di birra che ho vettorializzato con adobe capture adesso magari mi servirebbe per aggiungerla diciamo a questo allora mi avvalgo della funzione del righello di adobe draw che mi permette di disegnare delle forme geometriche ovvero a disposizione un vero e proprio righello virtuale che per interne ci mi permette mi permette di disegnare linee per esempio perfettamente ortogonali o parallele come sto facendo io in questo caso ma selezionando sempre lo strumento del righello vedete che sul questo lato abbiamo la possibilità di selezionare una libreria e io vado a selezionare proprio la libreria creative beer che abbiamo birra creativa che abbiamo creato dove vedete che c'è proprio il mio oggetto che ho vettorializzato con adobe capture adesso usando le due dita vado a posizionare questo elemento col pinche to zoom posso ingrandire a piacimento quindi il mio soggetto lo metto in questa posizione scelgo di uno strumento qualsiasi la tinta che voglio utilizzare per esempio voglio questo verde e un doppio tap ecco che mi permette quindi di aggiungere esattamente questo questo elemento quindi veramente molto molto efficace ok chiudiamo abbiamo creato quindi molto rapidamente i due loghi nelle due varianti direi che possiamo praticamente essere presso qui quasi pronti per cominciare a lavorare prima ancora vi ricordate in adobe sketch avevo quindi il mio bozzetto bene vi ricordate che devo creare per esempio come prima cosa una cosa che ancora mi manca effettivamente e cioè l'immagine di tutte le piccole bottigliette che stanno qua in fondo allora utilizziamo quindi in adobe sketch un nuovo documento vado adesso a selezionare uno strumento pittorico lo tengo premuto brevemente e vado nella sezione librerie a scegliere la libreria birra creativa e mi aspetto effettivamente è qua che compaglia che cosa il pennello bottiglia di birra che ho creato con adobe capture che mi permette adesso di fare esattamente quello che state vedendo adesso quindi vedete che molto rapidamente con tante piccole pennellate che faccio con la mia penna che potrei fare anche liberamente con il mio dito creo questo questa folla diciamo di piccole bottigliette di birra che magari si proteggono anche verso il centro perché è lì che poi metterò la protagonista del mio layout cioè la birra notate tra l'altro che posso cambiare anche per esempio tonalità ai miei elementi che so facciamo delle birre tendente più al verde per esempio piuttosto che non tendente di più al rosso questo proprio per diversificare ancora un po di più il mio layout bene questo è proprio quello che volevo fare chiudiamo e abbiamo quindi realizzato anche questo ok direi che adesso mi sembra che più o meno abbiamo tutto quello che ci necessita per sviluppare il nostro layout una volta che abbiamo creato gli asset cosa dobbiamo utilizzare per comporre il nostro layout un programma di page layout ed è proprio in questo caso adobe comp lo selezioniamo creiamo un nuovo progetto e questo nuovo progetto ha diciamo le stesse dimensioni alle dimensioni diciamo del layout che voglio in questo caso delle dimensioni di un ipad ma possiamo usare qualsiasi tipo di dimensione di layout formato a4 lettera tabloid uno personale non ha importanza bene abbiamo il nostro foglio bianco vi ricordo che con adobe comp possiamo inserire grafica creare della grafica stessa degli elementi geometrici o inserire testi attraverso l'ausilio di delle gesture che ci permettono proprio di fare questo in maniera super veloce e utilizzando proprio esclusivamente il tocco delle dita un semplice aiuto qua vi riassume per esempio tutte le cose che noi possiamo creare per capirci voglio inserire del testo mi basterà tratteggiare delle linee con un punto finale e lui provvederà a inserire del testo e così avanti allora prima cosa che adesso ho bisogno di fare sarà senz'altro quella di inserire l'immagine della bottiglia vi ricordate benissimo come si inserisce un'immagine bene mi basta semplicemente disegnare molto grossolanamente un rettangolo con una x e questo è il modo con cui io dico adobe comp qua ci va un'immagine doppio tap sulla mia sul mio box e mi chiede ovviamente dove andare a pigliare questa immagine in questo caso andrò direttamente sul mio dispositivo nel rullino delle fotografie vi ricordo che è lì già la mia immagine della mia bottiglia di birra già bella come vedete foto ritoccata a dovere ok naturalmente faccio questo delle dimensioni che voglio vedete tra l'altro che compaiono dinamicamente anche le famose guide sensibili che mi permettono molto semplicemente di allineare in maniera perfettamente centrata il mio soggetto fantastico questo mi piace andiamo avanti adesso mettiamoci le bottigliette che abbiamo fatto con cosa lo ricorderete con adobe draw quindi senz'altro io voglio introdurre un'altra immagine e per fare questo faccio semplicemente un'altra x e lui inserisce adobe comp un box immagine atto ad ospitare le immagini che vado a importare doppio tap e gli dico da dove la prendo la mia immagine dai miei file personali quindi in questo caso potrei andare a prendere file che ho nel mio repository di tutti i miei file di creative cloud oppure pescare direttamente in tutti i file che ho prodotto con le applicazioni per mobile in questo caso scelgo quindi photoshop sketch ed ecco qui proprio le mie file delle mie bottigliette qui che mi aspetta fantastico eccolo qua la vado ovviamente a ridimensionare a piacimento e lo vado a posizionare nella parte bassa diciamo del mio layout proprio esattamente come volevo ecco che il mio layout sta prendendo veramente corpo e forma se volete trovo estremamente utile ingegnoso possiamo anche bloccare ogni singolo elemento man mano che lo inserisco affinché magari non lo selezioni accidentalmente basta toccarlo e qui abbiamo un piccolo menu che compare quando seleziono qualche cosa che mi permette di dire ok blocca e così posso fare anche per esempio per la bottiglia così adesso non rischio di spostare nulla o cambiare qualche cosa vi ricorderete che adesso devo inserire un payoff o uno slogan della mia campagna mi basta semplicemente fare una riga con un punto è il modo con cui io dico ad adobe comp metti per favore una riga di testo lo spostamento di questo cursore che vedete qui a lato con il mio dito mi permette dinamicamente di cambiare le dimensioni di questo testo e naturalmente con un doppio tap posso andare a inserire il testo stesso in questo caso gli dico che questo è una birra diversa da tutte le altre voilà perfetto beh sarebbe frustrante non aver la possibilità di scegliere una fonte diversa da questa e invece grazie ai servizi di type kit all'interno di creative cloud e selezionando il pulsante apposito posso scegliere tra migliaia di font che mi vengono messe a disposizione benché stia lavorando pensate su un ipad in questo caso vado a scegliere questo fat frank che ho già utilizzato in altra occasione che mi piace molto facciamolo magari di un corpo maggiore e sempre nel pulsante di testo vedete che possiamo dargli qualsiasi tipo di altro attributo in particolare voglio questo testo giustificato ip grafe ok centralmente così benissimo molto bene siamo diciamo vicini a completare il nostro lavoro vi ricordo che adesso nella parte qui superiore avevo scelto di mettere il mio logo che ho creato con adobe draw bene faccio una semplice x quindi anche qua gli dico guardate voglio mettere semplicemente un box immagine da dove la vado a prendere queste immagini dai miei file personali ma non da adobe sketch in questo caso ma da illustrator draw eccolo qua il mio logo perfetto lo seleziono e lo vado a inserire ecco qua la mia creative beer mi viene già sete sulla vederla ok andiamo avanti nella parte inferiore destra vi ricordo che volevo mettere un piccolo blocco di testo quindi posso dire semplicemente disegnare un box con una serie di righe è automaticamente adobe comp capisce che voglio mettere quindi un blocco di testo testo finto in questo caso che poi posso naturalmente personalizzare a piacimento e caratterizzarlo esattamente per con tutte le proprietà che ho utilizzato anche per il mio slogan centrale della mia campagna bene cos'è che manca ancora si manca qui l'altra grafica ancora una volta una piccola crocetta un box nei miei file personali vado ancora nei file che ho creato con adobe draw e vado a pescarmi il logo con anche l'immagine grafica della birra che mi piaceva molto mettere qua ok fantastico direi che abbiamo veramente creato in pochissimo tempo un qualche cosa di interessante non contento mi è venuto in mente un'altra cosa che potrebbe essere fatta forse magari qui vedo fin fin troppo bianco vorrei creare un fondino magari pittorico molto tenue che riempie un po di più di colore e per questo allora mi potrei avvalere a ben pensarci di ancora adobe sketch con adobe sketch in questo caso vado ad utilizzare uno strumento che ha secondo me veramente dell'incredibile per molti versi questo qui è un vero e proprio acquarello allora notate per esempio quello che adesso io vado a fare in maniera molto approssimata faccio una spennellata di colore potete forse notare che il colore è esattamente come un acquarello su una tela comincia a impregnare quindi la tela stessa e a espandersi quindi si comporta esattamente come se fosse un acquarello su un foglio di carta la cosa risulta ancora più evidente se per esempio utilizzo un altro colore il quale si miscela con quello eventualmente già presente e vedete come si dilata se poi vogliamo congelare questo fenomeno basta che premiamo sul piccolo ventilatore il quale asciuga letteralmente la tela in maniera istantanea perché vi ho fatto vedere questo perché utilizzo questo strumento per creare un fondino e grazie tra l'altro alla bontà dell'utilizzo di apple pencil posso dosare l'applicazione di questo strumento con incredibile raffinatezza vedete come adesso io faccio una serie di pennellate e creo quindi questo bel fondino verde in questo caso che voglio utilizzare contestualmente all'interno del mio progetto ok diciamo che può andare a fare bene una cosa di questo genere fatto in maniera super veloce ora guardate posso anche sfruttare le funzionalità di multitasking di ios 9 sul mio ipad per richiamare in questo caso adobe comp che è già lì aperto quindi in questo momento come vedete sto utilizzando sia alla sinistra adobe sketch e sulla destra adobe comp queste due applicazioni sono già pronte per sfruttare questa caratteristica molto utile di ios 9 perché faccio questo molto semplice osservate sono in questo caso in adobe comp scusate in adobe sketch e nella parte superiore vedete che c'è il pulsante di condivisione che mi permette tra i vari comandi di dire copia negli appunti quindi io letteralmente copio questa immagine e semplicemente adesso facendo all'interno di adobe comp un box immagine posso dire che questa immagine è desunta da che cosa dagli appunti infatti vedete in basso c'è la funzione incolla immagine e io quindi adesso vediamo magari adobe comp in tutto il suo splendore vado letteralmente ad incollare questo bel fondino direttamente dentro il mio layout vi piace questa cosa qui certo che no perché perché io appiccicato questo fondino sopra tutti gli altri ma non vi preoccupate perché semplicemente toccandolo e quindi selezionandolo abbiamo qua in basso un pulsante che mi permette di col movimento di questo cursore di spingere in profondità qualsiasi elemento io abbia selezionato rispetto agli altri che sono già esistenti quindi per esempio come in questo caso potrei scegliere che il fondino stia dietro le bottigliette ma sopra la bottiglia principale oppure lo spinga proprio completamente in fondo ed ecco che quindi con una perfetta integrazione ho sviluppato questo progetto come vedete proprio dalla a alla z utilizzando applicazioni per mobile che in ultima analisi poi con la semplice pressione di un pulsante posso mandare al mio in design attraverso i servizi di sincronizzazione di creative cloud per finalizzare questo progetto direttamente in in design senza dover rifare null'altro grazie a tutti